Ragazzi buona nottata dal Corridoreato Mickey Croo che vi presenta lo Shop di Forna del sabato 2 ottobre ragazzi andiamo subito a vederlo e cominciamo con everybody love me 500 WBK sino 8 capitolo 2 ed ecco lo strano caso ragazzi doppio gioco capitolo 2 season 4 ecco la mod integrata dove si cambia lo stile durante la partita guardate adesso la trasformazione e il dorso decodativo curiosità da chimico il tutto a 1500 WBK ragazzi questa è molto carina ve la faccio rivedere ed ecco lo strumento di raccolta doppio gioco 800 WBK ragazzi ci sta eh ci sta da grande questo ecco lì della scuola spaventosa season 6 1500 WBK il dorso decorativo zucca 10 euro e il suo piccone pilota ragazzi 500 WBK mi presento ecco 1500 WBK abbinato al versione decorativo GORGlobio del 7 refermo 1500 WBK ed ecco lo strumento di raccolta fragella del divoratore 800 WBK sfondo mandibola 1200 WBK nel 7 giudizio finale definitivo season 1 abbinato ad ossicurativo unità di contenimento il suo strumento di raccolta sticker 800 WBK ed ecco Bommarò lucente bellissima 1200 WBK nella season 1 e l'uomo artigliero lucente 1500 WBK piccone col polpogareno 1500 WBK e il deltaplano dirigibile lucente 1200 WBK e dove si passa ad abstract 1500 WBK da secca assassinario sol abbinata al dorso decorativo mostra di etichette guardatelo 1500 WBK ed ecco Deadlock 1200 WBK nel set clip collettivo season 2 e il suo dorso decorativo zaino attacco ed ecco una serie di mod un temallo mancarina ramazza e suonazza 500 WBK Funky Fantasma altri 500 WBK zombificato 500 WBK regalati un dolcetto 500 WBK Tenelate Elmore 500 WBK e infine la copertura fiamma del Power questa è molto carina guardatela molto bella questa ed ecco ancora ed ecco ancora il bundle arma dietro banderi 1800 WB ed ecco una serie di emoti e skills del set alza il volume una luce 200 WB abbraccio dell'orso fantastica 200 WB 200 WB ed ecco una serie di skin femminili e maschi di ragazzi dissidente melodico ammotizzatore prodigio forte ampiezza pass per band riverbero charleston sincopato distruttore del synth e alternatore tutte a 1200 WB luna la più bella per me dissidente melodico per me donne che riverbero per gli uomini anche c'è sia il bundle sul volume che il bundle senti il ritmo tutte e due a 2800 WB rimane ancora Venom rimangono quelle di ieri di Halloween luna di lepre pagliato l'ottore di pezza vanno il bottino di paglia uomo di paglia operazione paglia il deltaplano apparizione bucolica la copertura la copertura la copertura i bottigli di paglia abiti e lo strumento di raccolta raccoglitorio 100 WB come fra questa la più bella è luna di lepre 800 WB guardate e poi due pacchetti che mi sono rimasti maestri di bagua è il vecchissimo dove c'è il giochino vedete vedete che è l'ultimo vi faccio rivedere carrellata finale ok ragazzi ora vi saluto lasciate un like alla live anzi al video e iscrivetevi in massa al mio canale mi dicono ditemi cosa ne pensate nello show di oggi sabato 2 ottobre ciao buonanotte e grazie a tutti di nuovo video